Ma io non devo fare nessun reportage, devo immortalare questo momento Oh vedi ragazzi, provo che mi torino Ah ma qui poi che facciamo, con la guida facciamo No ragazzi, io non vorrei la guida No, la guida nostra, prendiamo noi il cucino Solo bisogna staccarsi, io non so se prendi ragni così, bagarocci Cerchiamo di andare in punti molto aperti Eh a po', mi raccomando Sì, non mi ha dato qualche parte sperdura Quindi se avete bisogno da fare andiamo in bagni comunque Mi raccomando No, all'aria aperta è stato aperto No, che io lo metto dietro l'albero, capito Ragazzi, c'è un qualcosa che striscia i miei piedi Com'è, a balzelletta? Deve succhiare Adietro che devi fuori Eh? Questa c'è? La ruffissima No, il frere hotel Paragirma C'hai 8 giga su quella macchinetta, spero No, ce n'è uno ma... Una panetta Sì sì All'aglio Tutto un blog Sì 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 Ma guarda, perché è più assolutato? Perché sto così? Mi ricordo Troppo vicino da mi chiusparci io Sì 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 Sì